guarda cosa abbiamo creato il tuo dna è il suo identico è il tuo clone gemini gioca a fare dio col dna alle tue capacità senza il dolore hai avuto il tuo tempo ora è il mio dobbiamo fermare gemini perché che succederebbe se qualcuno vedesse chi sei davvero gemini man dal 10 ottobre al cinema grazie